Cerimonia suggestiva a Cosenza per la Festa della Repubblica, celebrata in piazza 11 settembre alla presenza del prefetto Giancarlo Tomao, dell'arcivesco Francesco Onolè, dei sindaci dei comuni della provincia Abruzzi e delle autorità civili e militari del territorio. Presente anche il commissario prefettizio di Palazzo dei Bruzzi, Angelo Carbone, durante la celebrazione animata dalla presenza del primo reggimento Bersaglieri e dall'orchestra dell'Istituto Comprensivo di Mendicino, sono state consegnate le medaglie d'onore ai cittadini deportati e internati nei lager nazisti a Francesco Russo di Firmo, Francesco Antonio Forastieri di Laino Borgo, Vincenzo Iorio di Tortora, Salvatore Mazza di San Pietro in Guarano e Carmine Occhiuto di Trenta. Consegnata anche l'onorificenza vittima del terrorismo concessa con decreto del Presidente della Repubblica al signore Pasquale Garofalo, brigadiere in congedo. Il candidato a sindaco dell'Alleanza Civica Progressista, Carlo Guccione, per celebrare il settantesimo anniversario della Repubblica, ha scelto l'ara dei fratelli Bandieva nel Vallone di Rovito. E' questo il luogo identitario della città di Cosenza, ha detto il consigliere regionale. Cosenza è il seme della libertà nella sua storia, non quello del mito di un di un nuovo barbaro. Salvatore Bruno per la CNews24.